buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova giornata di formazione organizzata da studio sigaudo in collaborazione con la collega e dottoressa rebecca zollo oggi si parlerà di iva nella pubblica amministrazione prima di lasciare la parola alla dottoressa zollo vi ricordo che il corso sarà registrato pertanto se non desiderate comparire è necessario disattivare le videocamere ricordo inoltre di mantenere i microfoni disattivati per tutta la durata dell'incontro per quanto riguarda la registrazione sarà disponibile sul portale formazione tutto pia per tutti coloro che hanno il pacchetto formazione tutto pia oro e platino attivo o per chi ha acquistato appunto il corso singolo lascio la parola alla collega dottoressa zollo e auguro buon corso a tutti grazie sara grazie ai partecipanti benvenuti come pronunciato appunto il corso di oggi verte sulla materia fiscale quindi sulla gestione dell'iva negli enti locali nello specifico di che cosa parleremo vedremo quali sono le principali liquide iva e i casi di applicazione o perlomeno ripasseremo per coloro che eventualmente hanno già seguito anche altri corsi e cercheremo di trarre anche da un argomento che potrebbe sembrare insomma molto semplice e banale alcuni spunti di riferimento e di ragionamento molto importanti sulle qua sui quali si sta soffermando ultimamente molto spesso agenzie delle entrate e vedremo a breve a cosa mi riferisco poi faremo un brevissimo insomma inciso sulle principali attività degli enti locali attività commerciali quindi ne vedremo qualche esempio cercheremo di capire qual è l'alicota iva da applicare se siamo obbligati o meno ad emettere fattura per queste tipologie di attività e in generale qualche informazione appunto su questo tipo di servizi parleremo ovviamente di split payment e reverse charge perché non si può prescindere insomma in un corso iva sugli enti locali da questi argomenti ne parleremo sia in chiave di contabilizzazione finanziaria sia in chiave di contabilizzazione fiscale quindi imputazione documenti in registriva vedremo per l'appunto in registriva e parleremo anche di fatturazione elettronica argomento insomma oramai abbastanza conosciuto perché già dal 2019 che siamo obbligati ad affrontare questo tipo di situazioni però anche qui cercheremo di stimolare il ragionamento verso casistiche un po' particolari parleremo dei versamenti periodici e poi di tutto il mondo opere pubbliche quindi iva e opere pubbliche iva e pnr gli ultimi due argomenti saranno secondo me quelli un po' più importanti che possono destare un po' più di dubbi sospetti eccetera su come vengono gestite all'interno dell'ente magari alcune cose ci arriveremo pian piano perché ovviamente per sviluppare discorsi un po' più complessi bisogna prima sviscerare un po' di concetti base spero insomma che possa poi essere utile anche ai fini insomma delle varie rendicontazioni su regis o altre tipologie di rendicontazioni perché l'argomento passa sempre un po' in sordina ma è molto importante quello del trattamento dell'iva dell'imposto sul valore aggiunto all'interno di quadri economici di opere pubbliche coperte da finanziamento proveniente da altro ente pubblico sia esso lo stato la regione eccetera eccetera allora iniziamo con le principali adiquete iva e i casi di applicazione attualmente nel nostro ordinamento sono vigenti questa liquida iva abbiamo il 4 per cento per i generi di prima necessità solitamente parliamo di cibi bevande che vengono somministrate nei pasti ad esempio delle mense scolastiche eccetera abbiamo la liquida iva del 5 per cento istituita di recente relativamente di recente perché è stata introdotta nell'ordinamento dal 2015 ed è una casistica un po' particolare forse l'unica liquida iva che è associata non tanto alla tipologia di prestazione quanto alla tipologia di fornitoro comunque soggetto che eroga questi specifici servizi ovvero prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali relativi consorsi la specificazione rese da cooperative sociali relativi consorsi è fondamentale perché abbiamo anche le casistiche di prestazioni sociosanitarie ed educative rese da soggetti diversi privati altri enti pubblici eccetera che scontano una liquida totalmente diversa quindi questo è sempre bene ricordarlo quando ci si trova di fronte magari una fattura un contratto un documento che abbia a che fare con questa tipologia di soggetti quindi cooperative sociali relativi consorsi bisogna aspettarsi in qualche modo l'applicazione dell'aliquota iva del 5 per cento altra aliquota iva la cosetta aliquota ridotta 10 per cento servizi turistici operazioni di recupero edilizio e utenze questi due argomenti operazioni di recupero edilizio ed utenze saranno oggetto di approfondimento nelle prossime slide perché sono effettivamente situazioni particolari che come sempre in ambito fiscale richiedono un approfondimento preciso perché per potervi accedere sostanzialmente ad una sorta di agevolazione dell'imposta bisogna effettivamente verificare di avere i requisiti in regola e dichiarare sotto la propria responsabilità di potervi sostanzialmente accedere aliquota iva cosiddetta ordinaria 22 per cento tutti i casi in cui non sono applicabili le altre aliquote iva entriamo subito nel vivo un po anche del discorso per le pubbliche perché lì che andiamo a parare quando parliamo di aliquota agevolata del 10 per cento perché la tabella a allegata dpr 633 72 che sapete essere il testo di riferimento per antonomasia insomma in ambito di fiscalità in generale ma anche fiscalità per gli enti pubblici all'interno di questa tabella appunto troviamo l'elenco delle casistiche per le quali è possibile applicare cedere all'aliquota agevolata del 10 per cento anziché l'ordinaria aliquota del 22 per cento i casi sono quelli di urbanizzazione primaria urbanizzazione secondaria restauro del isolamento conservativo ristrutturazione edilizia ristrutturazione urbanistica ogni qualvolta si cerca insomma di capire in ambito fiscale di risolvere un quesito relativamente ad un'opera pubblica di un intervento di manutenzione eccetera per capire se possiamo appunto avere lo sconto dell'aliquota iva non è così immediato dire ok rientriamo nell'ambito di applicazione di urbanizzazione primaria allora sicuramente la risposta è sì molto spesso quasi sempre vi viene da dire in ambito fiscale le verifiche da fare sono molteplici e soprattutto richiedono l'interferenza insomma la collaborazione di più soggetti che abbiano competenze diverse mi spiego subito fino ad arrivare a spiegare cosa possa significare urbanizzazione primaria e secondaria possiamo farlo attraverso ad esempio questa slide quindi consultando le leggi di riferimento ho estrapolato quelli che sono gli elenchi che possono farci capire a grandi linee cosa significa l'una e l'altra fattispecie quindi urbanizzazione primaria strade e parcheggi per esempio fognature rete idrica rete per la distribuzione dell'energia elettrica e del gas combustibile bruno domestico rete telefonica pubblica illuminazione spazi di verde attrezzato nell'urbanizzazione secondaria invece ricomprendiamo gli edifici scolastici quindi asili nido scuole materne scuole dell'obbligo mercati di quartiere chiese impianti sportivi e centri sociali quindi fino ad arrivare più o meno a consentirci un'analisi per capire se in ogni caso stiamo operando in questo tipo di settore possiamo farlo dopodiché però passare dalla teoria alla pratica serve per forza di cosa una collaborazione con l'ufficio tecnico o con chiunque si occupi all'interno dell'ente della gestione immobiliare della classificazione urbanistica eccetera questo ve lo dico perché di recente anche agenzia delle entrate con questa risposta 229 analizzando appunto il caso di un l'ente che chiedeva all'agenzia delle entrate se una specifica opera pubblica dovesse o meno vedersi applicata l'alliquota del 10 per cento ha risposto dando insomma un po di passati miei termine frecciatine rispetto a quello che dovrebbe essere il compito dell'ente e le conoscenze all'interno dell'ente l'agenzia delle entrate dice la qualificazione di una determinata opera come opera di urbanizzazione spetta in ultima analisi al comune o altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazione urbanistica questo a me che sono un po ignorante in materia di appunto conoscenze tecniche non sono architetto non sono ingegnere non mi occupo di edilizia fa capire che non è detto che tutti gli edifici scolastici siano per forza ricompresi nelle opere di urbanizzazione secondaria ma dipende dalla classificazione urbanistica fatta all'interno dell'ente dall'ufficio competente quindi vedete che ho subito smontato la tesi per cui quello che c'è negli elenchi che abbiamo visto nella slide precedente per forza di cose sconta al 10 per cento no è un dipende che so che una risposta che magari tra consulente e cliente non piace ma in ambito fiscale la risposta più frequente che ci troviamo a dare perché io devo rispondere ad un comune che mi dice faccio un'opera sulla scuola della zironido e assoggettabile 10 per cento dipende dipende da che cosa intanto da come è classificato quindi l'immobile e l'opera che andiamo a effettuare e questo me lo devi dire potenzialmente tu cliente ente poi in linea generale agenzia delle entrate si sofferma su un altro concetto che dovrebbe essere già noto come vedremo anche nella slide successiva però ci sofferma sul fatto che l'aliquota ridotta del 10 per cento si applica ai lavori di realizzazione ex novo anche a di fuori dell'ambito del tessuto urbano e non agli interventi di semplice sistemazione miglioria modifica degli immobili anche se comportanti un potenziamento delle medesime opere